Ma non ci sta nessuno qua! Io sono giudia, sono giudia, e voglio partire fuori io! Aprite fascisti! Fascisti, aprite! Gridava fascisti non nel senso di un'accusa o di un insulto, ma proprio come una qualificazione interlocutoria naturale. Gridava fascisti non nel senso di un'accusa o 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 di un'accusa. L'aria fischiò mentre già in un cuore enorme tutti i muri precipitavano le loro spalle e il terreno saltava loro d'intorno, sminuzzato in una mitraglia di frammenti. Finalmente apparve in cima al viale una panciulla che gli piangò. Cos'è? Questa è mia! Ida lo prese per il collo e si mise a correre senza direzione. Edoardo non sapeva che quella ragazza era sua cugina. Nella corsa aveva lasciato cadere una delle sue smorte, mentre l'aria dimenticata le metteva ancora al braccio. Anna così distratta e inconscia e insieme sicura di sé appariva una difficile presa. Nella sua corsa sentì che scivolava verso il basso su un terreno arato che pareva rimosso e che fumava. Ma ciò rispiegò l'angolo in D'Edoardo e mentre Anna levava il piede per attraversare una breve forza pangosa le giunse all'orecchio e una voce. Oh, poverina, cari! Che mi scasta? Poverina! Si, 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 si! Tu ne erai, tu perdi i tenti tuoi, faci l'anguidi, non dirò. O qui dentro al giorno, la tua voce che dice tremando amore, non dirò, non dirò. Tu te sei un momento al giorno, la tua voce che dice tremando amore, Grazie a tutti.